Salve, ben arrivati qui al Bellù di 42 di Riccione. Tutti i nostri drink sono confezionati, sono realizzati con delle specise regole e con la cura deliziosa appunto degli ingredienti. Nel mio percorso ho avuto la fortuna di incontrare Azaio che mi ha preso per mano e mi ha guidato verso quelle che potevano essere le nuove opportunità per realizzare quelli che erano i miei obiettivi e per sviluppare i miei sogni. Grazie a loro ho aperto e ho creato una startup innovativa che davvero mi ha cambiato la vita e mi ha dato una marcia in me. Salve, ben arrivati qui al Bellù di 42 di Riccione. Tutti i nostri drink sono confezionati, sono realizzati con delle specise regole e con la cura deliziosa appunto degli ingredienti. Nel mio percorso ho avuto la fortuna di incontrare Azaio che mi ha preso per mano e mi ha guidato verso quello che poi potevano essere le nuove opportunità per realizzare quelli che erano i miei obiettivi e per sviluppare i miei sogni. Grazie a loro ho aperto e ho creato una startup innovativa che davvero mi ha cambiato la vita e mi ha dato una marcia in più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.